E' stata una bella esperienza, quello che mi viene in mente subito di dire è che si parla tanto di crisi della musica, in realtà io penso che se dobbiamo dire crisi è molto interessante salutare, perché vuole dire che magari anche un pubblico di ragazzi molto giovani, prima di tutto è un pubblico, tendo in regso interessante, perché la mia idea delle 10 direzioni, proprio che il suono si spande ovunque e supera tutti gli ostacoli, anche quelli mentali che sono abbastanza duri a volte, i preconcetti che abbiamo, i giudizi etc., però a parte quello è anche un fatto di uscire dai limiti, tra un pubblico i ragazzi che dai 12 anni cominciano a suonare il pianoforte, vengono e mi fanno sentire, 14, 15, 18 fino poi avanti, per cui questa crisi musicale forse è interessante, perché si vuole qualcosa dalla musica che magari non sia soltanto intrattenimento o divertimento, divertimento va bene, ma come sottofondo, ogni tanto la musica che è una grande arte la trattiamo un po' così, appunto da sottofondo, per distrarci più che invece per renderci attenti. Il suono in fondo è unione e comunione. Allora se io magari riesco a essere particolarmente attento mentre suono e a mettere questa attenzione, questa presenza nel gesto sonoro, la vibrazione che metto schiacciando, essendo attento, metto in vibrazione questa corda che arriva e fa partire, il mondo dei suoni arriva e entra attraverso l'orecchio e poi si cala, anche nel metabolismo chi ascolta, allora attraverso a livello profondo magari questa vibrazione tocca delle parti che diciamo noi oggi nel mondo così un po' caotico, indaffarato che viviamo, abbiamo poche occasioni di toccare. E poi c'è anche un'altra cosa da dire, una volta la musica, lo dirò anche stasera, le persone si radunavano nei templi, la musica era un veicolo di unione, era un veicolo che faceva scoprire delle cose e quindi è una cosa che non è che ho inventato io, nei circoli pitagorici della Grecia Pitagora oltre alla tabellina ci ha lasciato tutto un sistema di struttura degli armonici legata al sistema dell'universo, la musica delle sfere eccetera allora io diciamo che sono interessato a quella funzione della musica. Fin da bambino mia madre mi aveva fatto notare che ci sono due momenti nella giornata dove tutto si ferma, è una sospensione che dura circa 40-45 minuti e avviene nell'aurora, cioè prima dell'alba e subito dopo il tramonto, diciamo al sorgere del sole il pianeta è come se facesse una lunga inspirazione che dura tutto il giorno fino al tramonto, poi al tramonto c'è questa sospensione di 40-45 minuti e poi una lunga ispirazione che dura tutta la notte fino all'alba del giorno dopo. E questo è molto simile al nostro modo di respirare, noi quando inspiriamo poi l'ispirazione non è attaccata, c'è sempre questa sospensione e poi questa ispirazione, quindi è una respirazione su una scala diversa, planetaria. Allora dico questo perché in questi momenti sono sempre stato molto sensibile e ho scritto musica, un pezzo ed è quello che presento, si chiama Meraviglia, è proprio lo scritto in questi momenti ed è in onore di questa magia di cui spesso purtroppo non ci accorgiamo, ma che esiste intorno a noi, dentro di noi e fuori. musica 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 musica